Quando fate una passeggiata per i prati primaverili fioriti, vedete sicuramente molte api e vespe sui fiori. Beh, che se ne dica, quelle molto spesso non sono né api né vespe, ma sono sirfidi, mosche camuffate, il cui mimetismo battesiano, che emula i colori di specie velenose o tossiche per i predatori, è talmente ben fatto da ingannare anche voi, e inganna anche me se guardo di sfuggita un insetto. Per fare un'osservazione fatta a quei dovuti crismi, bisogna usare l'intelletto e osservare attentamente l'insetto che è su quel fiore. In questo modo potrete capire a che ordine appartiene. Grazie a tutti.